Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della vita Cammino lento, forte, sento nel... Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite, cantatore, il dottor Main, a questo punto la domanda, per chi non ti conosce oggi, come scriveresti il dottor Main? E perché il dottor Main? Beh, il dottor Main, guarda, bella domanda, Main è il finale di Carmine, quindi ho aggiunto solo una Y, ricordandomi un po' anche quello che era Minevaganti, un film che io amo tantissimo di questo bravissimo regista che è Fersan Obstek, e allora dico, mi sento anche un po' una Minavagante, no? E allora voleva essere anche un Carminevaganti Show, quindi da lì è poi nato dottor Main. Dottor Main è una persona che comunque si sente innanzitutto bene con se stesso, perché nel momento in cui ti senti bene con te stesso puoi scrivere delle cose comunque che ti fanno ti fanno bene a te che le scrivi e fanno bene a chi le ascolti. Dottor Main poi è un progetto, è un progetto a lungo termine, anche perché siccome puoi vedere dai capelli bianchi è uno staff abbastanza agé, no? Però come dico io, i sogni non bisogna mai lasciarli nel cassetto ma metterli sul comò, perché prima o poi può succedere di tutto, quindi una spolverata e tutto riprende vita. A questo punto parliamo intanto dell'ultimo brano, quando nasce questo brano la forza ci vuole ma lenta, perché? Come nasce tra ispirazioni? Vabbè, impariamo innanzitutto che la vita ha un bioritmo, no? Non è che si va sempre forte o si va sempre lento, bisogna trovare il giusto equilibrio, quindi bisogna andare nei momenti, quando è forte devi andare quando senti il bisogno di accelerare, lento anche il nostro corpo, la nostra mente sta captando qualcosa che non va, quindi bisogna rallentare, quindi nasce forte e lento. E forte e lento è come Botox, che è stato il nostro primo singolo, vanno sempre lette tra le righe, perché possono sembrare delle canzoni molto, diciamo, delle ballate leggere, però in realtà se uno legge tra le righe riesce a trovare la sintesi giusta. E fortemente a un certo punto dice, lo dico, cazzo, mi sono dimenticato l'indifferenziata. Siamo sempre alla rincorsa di qualcosa e poi dimentichiamo delle cose molto importanti, come in questo caso, cito l'indifferenziata, e deve essere un approccio soprattutto anche per i giovani ad approcciarsi a delle cose importanti come il green, no? E salvaguardare un po' quello che ci gira intorno. Abbiamo visto appunto un videoclip dove c'è tu che giri da casa, poi appunto dici quella frase lì e ti scordi, ma l'idea di questo videoclip da chi nasce e poi chi l'ha sviluppata poi alla fine per poter arrivare a questo risultato? Guarda, io ho la fortuna di essermi iscritto all'università pochi anni fa e ho scelto comunicazione di media con la realizzazione di progetti videoclip musicali e cinema, quindi calcola da lì. Avevo già la passione da autodidatta, poi si studia bene i vari storytelling, la stesura di uno storyboard, non da solo sicuramente, anche perché comunque avevo due miei carissimi amici che fanno anche proprio questo di lavoro. È stato sviluppato assieme ed è stata una cosa volutamente un po' ironica, dove si dovevano notare anche gli errori di ripresa, quindi effettivamente se tu fai bene attenzione quando guardi il videoclip ti accorgi che ci sono proprio degli errori di ripresa, ma sono degli errori proprio volutamente messi a posto sulla carta quando l'abbiamo sviluppato per rendere una cosa un po' più simpatica, dove chi lo guarda non si annoia e potesse guardarlo fino alla fine. Hai fatto live? Ah sì sì, ho fatto dei live assolutamente, quest'estate ne ho fatti 34 di live, tra cui ho aperto anche dei concerti, ho aperto anche nomi come Patti Bravo, ho aperto Shade e fra poco ce ne sarà un altro con il 31 di ottobre, con aprirò quello di Marco Cartemietta. No, direi che la cosa sta funzionando per il progetto così, diciamo nato da poco. Un progetto come ti dicevo prima, a lungo termine, perché il dottor Main lo definisco un progetto, io sono il frontman e quindi abbiamo preso anche il nome Carmine Main, dottor Main, per sanare il cuore a chi ha voglia di ascoltare la musica, anche perché è un progetto che deve arrivare diciamo un po' a quello che è la fusione di tante anime, quindi dai bambini alle famiglie al giovane che ha voglia di ascoltare qualcosa di nuovo. In questo devo ringraziare la mia squadra che è Gianfranco Cuffaro, che è la mia etichetta con parole e suoni, poi c'è il mio produttore che è Dario Bonelli, poi la distribuzione, radio, web, tv, conosci molto bene che è Giovanni Germanelli e poi ci sono tante altre persone che lavorano dietro a questo progetto e quindi direi che la cosa sta andando molto bene avanti. Siamo pronti per approdare con un nuovo brano a un festival, non quello di Sanremo, ahimè, che purtroppo se non hai alcuni requisiti non puoi neanche accedere a mandare il brano, però ne stiamo lavorando ad altro che può aprire delle porte molto importanti. E qual è la sensazione che hai provato salendo sul palco? Inizialmente hai un pubblico sotto che è silenzioso, poi c'era gente, tanta gente, inizialmente erano silenziosi, ma poi si sono animati, nonostante che eri concentrato sul brano, tu però sentivi quell'energia che inizialmente saliva piano piano, ma poi è diventato l'onda su quel momento che hai provato. Io in realtà cerco di salire sempre con tantissima energia, non gli do neanche il tempo di farle stare zitti, quindi anche perché i due brani, i due singoli che abbiamo appena sfornato in un anno hanno tutti un sound che ti portano comunque a muoverti, senti proprio l'energia, io la chiamo energia di impatto e quando ti danno uno schiaffo e tu lo senti. E noi abbiamo deciso proprio di creare una sinergia di impatto, quindi l'artista appena esce deve essere recepito immediatamente. Non ho paura del palco, non ho paura né del palco e né del pubblico, anzi, ti dirò, quando si accendono le luci mi portano sicuramente in un'altra dimensione che è quella che poi l'artista cerca in realtà. Invece scendendo al palco, la gente che ti incontra, non solo facendoti complimenti, ma li vedi felici nell'orto. Ti dirò, Pietro, guarda, per essere diciamo nel piccolo, io orgoglioso di solito, mi sento anche a volte anche un po' in imbarazzo. Abbiamo fatto le prime foto, ci sono stati i primi autografi, tra cui c'era una famiglia inglese nel mio ultimo show, tra cui mi hanno scritto alla mail dove praticamente i figli avevano fatto un compito a scuola a Londra e si parlava di qualcosa che li avesse resti felici quest'estate e il figlio aveva scritto appunto che aveva conosciuto il dottor Main e aveva ascoltato le mie canzoni, quindi diciamo involutamente o volutamente tratte dall'emozione di un bambino siamo arrivati fino a Londra. e direi che è una cosa fondamentale anche perché, capisci, quel tipo di musica è stata ricepita all'obiettivo in cui noi ci eravamo posti. Noi volevamo un pubblico che fosse un pubblico omogeneo, non un pubblico standardizzato. Quando tu canti, parli, le parole si devono percepire bene e l'emozione nel momento in cui tu canti deve vibrare e questa vibrazione è arrivata. A questo punto prece più essere un po' più prolisso nelle testi oppure come nell'inglese un po' più sintatico, un po' più sintetico, un po' più greso, ma essere per arrivare appunto a far comprendere quello che si vuole dire. Allora, il bravo è ancora in vita mogol, il bravo autore che è Claudio Mattone, ti sto facendo due nomi che poi insieme a Lucio Battisti insegnavano che in un testo di una canzone bisogna raccontare e solo attraverso il racconto tu puoi far percepire praticamente quello che tu dici. Cerchiamo sempre anche di utilizzare meno possibili sintetizzatori, non di costruire una musica, diciamo, come la posso definire, in fibra sintetica, ma cerchiamo sempre di usare una fibra che si possa avvicinare a quello che sia il cotone, il cashmere, dove praticamente tu trovi il calore. E oltre, vabbè, ci sono artisti a proposito, ma tu sei un po' nerd perché citare una canzone con Gig Robo e con Amadeus, hai cercato comunque di conquistare Sanremo? In realtà dovevamo cercare di fare comunicazione ed è direi che è riuscito abbastanza bene anche perché era diventato virale, avevo avuto circa 40.000, 20.000, non ricordo bene, però ti sei studiato molto bene il personaggio, non mi aspettavo questa cosa un po'... Dicevo, ma questo come fa a sapere queste cose? Effettivamente hai studiato molto bene il personaggio. Sì, sì, volevamo fare centro su Amadeus perché comunque alla fine chi crea un progetto a lungo termine spera poi di poter approdare a quel palco che è l'Ariston e ti dirò noi viviamo in Liguria, siamo a Diano Marina in provincia d'Imperia e distano solo 27 chilometri da qui all'entrata della porta dell'Ariston, da dove mi trovo in questo momento. Quindi perché non sognare in grande? Ma questa è una cosa che non la devo fare solo io. Sognare in grande lo devono fare tutti perché i sogni aiutano a vivere, i sogni aiutano a darti delle nuove prospettive, i sogni aiutano a darti una direzione, una direzione positiva, ok? È quello che dobbiamo far percepire anche ai nostri figli. Io non ne ho di figli, però ho dei nipoti e sicuramente i miei nipoti quando mi chiamano dicono zio guarda ma io voglio venire in vacanza con te, zio voglio... quindi vuol dire che comunque alla mia età che non ti svelo e non lo farò mai, i tuoi nipoti ti chiamano perché avvertono la positività della vita, è fondamentale questa cosa qua. Alla fine però c'è qualche artista in cui ti sei ispirato? Hai saputo cogliere quelle particolarità che poi hai fatto tu e non ne hai copiato, ne hai fatto tu e... No, 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 sono due brani Pietro, bravissimo, non ho assolutamente mai copiato e la terza che uscirà si intitola Miami, l'ho scritta a marzo ed ero proprio a Miami in un museo, che in pochi vanno a Miami vanno a vedere un museo, ma io ero in questa villa, museo dove ho scritto poi questa terza canzone, arrivo alla tua domanda, no, non copio assolutamente, posso trarre delle ispirazioni? Sì, perché io le mie canzoni come nascono? Guarda ce ne sono una valanga su carta e ne stiamo producendo, io scendo di casa di sera a portare, a fare l'ultima pipì al mio cane che è Giorgino e scendo con una parola, ok? Da quella parola ho una frase che mi è venuta in mente durante il giorno e cerco di portare a casa qualcosa. Di solito succede così, è successo così con Botox, è successo così con Fortelento ed è successo con Miami che l'ho scritta in cinque minuti, testo e musica fatto in cinque minuti ed è una bomba. A chi ti ispiri, chi è stato nel mio mentor? Te lo dico, uno è per sempre, è Vasco Rossi, quindi diciamo che è un cantante che ho sempre seguito, anche perché le melodie di Vasco e i suoi racconti e lui diceva anche lui che scendeva oppure usciva con una frase in testa e ne portava a casa qualcosa. Diciamo che è un po' quello il mio indirizzo. Abbiamo visto la copertina del singolo C7E con questo sfondo C7E, non neanche ben delineato perché ci sono degli frammenti. Quando nasce questa idea copertina soprattutto perché solo te lì? Perché dovevo rappresentare quello che diceva la canzone in quel momento lì, quindi quando l'ho scritta l'ho scritta da solo a Fortelento ed ero in quel momento. Poi il gruppo che rappresenta la velocità, la parte tagliata di me, come dicevo c'è un gruppo, poi quella copertina è stato uno scatto fatto durante la registrazione del video e mi era piaciuta tanto, poi l'abbiamo editata con questa ragazza, mi cura la parte di media social manager che è Martina Bolle e l'idea ci è venuta mentre eravamo un pomeriggio seduti davanti al pc mentre cercavamo e allora avevamo detto ma perché bisogna comunque creare qualcosa che possa arrivare da non confondere le idee, di non smorzare troppo quelle che è la realtà delle persone che poi dall'altra parte ti guardano. Infatti abbiamo lasciato tutta la naturalezza della foto compreso le occhiaie che avevo dopo due giorni di riprese per il video. Tu hai suonato per i concerti diversi artisti, qual è che ti ha sorpreso maggiormente che in realtà non ti aspettavi però ti ha indifferente ti ha lasciato molto felice perché stare accanto a quell'artista ti ha reso quella felicità che effettivamente non ti ha aspettato. Cioè? Oltre che tu sono tutti imparavi eh? Sì sì, parte di questi eventi calcoli che li gestisco e li organizzo anche io. E quest'anno ho avuto la fortuna di avere in uno dei miei eventi Patti Bravo. Quindi ho cantato prima di Patti Bravo perché aprivo proprio sta serie di ospiti, vero Martina? È vero perché ce l'ho qui la Martina e ho trovato che ho una vibrazione pazzesca anche perché poi quando parli di divi lei è una diva a 360 gradi è una signora in tutti i sensi, una persona molto perbene, positiva con uno stile anche nel solo muovere le mani ma io ti sto parlando dietro le quinte ok? E mi ha lasciato spiazzato anche perché comunque tanta roba. Guarda noi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite. A questo punto ci mancano due cose fondamentali. Gli indirizzi dove puoi aggiungerti e ascoltare la tua musica, la vostra musica e i saluti finali. Allora è facilissimo, sono i classici. Quindi sono le piattaforme digitali, c'è Facebook dove trovano Dottor Main oppure le mine vaganti, giusto? O le mine di maile? Eh? Non si ricorda. Lei è la social media manager in questo momento è nel pallone. Poi vabbè Instagram ce ne sono due. C'è Dottor Main che è DR quindi domodosso la Roma, Milano, Ypsilon, Imola, Napoli, Empoli, Dottor Main oppure lì sbirciano diciamo e diciamo è l'artista mentre se poi noi veniamo a sbirciare anche un po' nella mia vita privata è il Carmine e quindi siamo siamo lì. E saluti ai finali. Io vi ringrazio, ringrazio te, Pietro, per avermi ospitato. È sempre un onore nel momento in cui ti ospito. E poi è stato bello in questo momento anche perché abbiamo parlato, interagito in un modo che io amo assolutamente. Scusa, a questo punto gira visto che ci fai salutare la social manager. Dov'era? Ciao! Ciao! Vedi? Scusa, l'abbiamo citata e non la vedevamo. Adesso l'abbiamo vista. Studio 7 TV e Sport Picciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della vita.